Ciao baby Hola hola baby Allora Dunque Scusate la faccia Perché sto truccata tutto il giorno Mi sono data giusto una sistematina qua e là Per essere un minimo gazzarola presentabile E Niente Le ciglia finte ce le ho da tutto il giorno Il trucco sugli occhi idem E poi c'ho Delle caccole nel naso Disumane Qualcuno mi pensa che io pippi perché Oddio Mi verrebbe da soffrire il naso Ah ora si Non ho fatto il gesto un consulto Eccolo qua Perché Con queste Tinta La minonna si tinta Rimangono le dita macchiate come vi avevo già detto l'altra volta Dunque Stringiamo Amiche micchie Perché Ecco E' da tipo stamattina alle otto e mezza che sono in piedi E direi che sono abbastanza stanghetta Stanghetta Stanghina Però So che questo video Lo volevate tutti Alla grande Yeah yeah Oh mamma Maceo E quindi perché no Visto che adesso l'ho testato Cerco di farlo In fretta Allora Allora Vi ho Che comunque tanto Eh oramai sono diventata Una youtuber Di quelle Cioè Straserie Quindi tutto ciò che ho sul mio visino O trovate in l'info box Allora Sto testando questo kit labbra che mi ha regalato il mio bambolone bello e rumeano fighissimo E mi piace Nonostante che Tante di voi mi hanno pure detto che Eh Mi sta bene il rosso grazie Con gli occhi dell'amore voi vedete tutto con gli occhi dell'amore Allora Questo naturalmente è il video dei dupes Che mi avete richiesto in mille Tutti i link dei dupes le trovate nell'info box Cominciamo Allora In primis parliamo della più chiacchierata in assoluto La nostra androgeni Androgeni bullet Allora L'androgeni è quella che comunque costa un po' di più Eh Tipo la trovate verso Dipende dal venditore Io mi sono pure bruciata Quindi se mi vedete sto con il braccio è perché mi sono bruciata Ma non è niente di che Solo ciò ho fatto il Questa fasciatura Perché comunque Con questi maglioni Insomma mi sono bruciata l'altro giorno con la fadella Allora Oh mio Dio mi sono già persa Allora L'androgeni Scusate ma Ciao Jack va in cucina con Tina Stiamo crescendo ragazze C'è di una quantità industriale al giorno Io sto cercando di mettervi un video al giorno Perché come sapete a breve me ne andrò Non ce la può parlar E me ne andrò perché Per il nostro bene Quindi non vi preoccupate Comunque ve lo dirò Dai stringiamo Allora l'androgeni La trovate forse quella che trovate a più prezzo Comunque Dalle 6 Dai 6 dollari Ai 9 dollari Quindi La palette è questa In cartone Andiamo a tirare fuori la nostra pallets Ed è fatta così Ora io non so quanto vedrete Qui c'è il coso e il rialzo E di dietro però si vede male le scritte Vedete Però Io l'androgeni vera non l'ho mai vista Perché non ce l'ho Però Ecco Devo dire che A me non dispiace Veniamo al packaging interno Allora abbiamo uno specchione E poi vi dirò le mie considerazioni finali O specchione Con qua tutti i suoi rigamuzzi E poi abbiamo i nostri colori Che sono questi Allora come sapete Non avendo più che altro Perché il cellulare della mia mamma Con quella macchia Non si vede più una fazza frazza Ed abbiamo Questi colori che sono matt Altri due matt E questi che sono shimmer E l'ultimo matt Allora Questa palette Devo dire che è una di quelle Che sinceramente Mi ha colpito un po' di più Allora I colori sono un po' polverosi Quando li andate a prendere Con il pennello Vi spolvereranno un po' Però comunque sia Devo dire che Per il prezzo Che hanno Vediamo se riesco Magari a farvi vedere Allora Mi metto Androgini Il viola Allora Hanno anche Un ottimo odore Allora Vi devo dire che Per il prezzo Che ha la palette Quindi di 6 dollari O così Allora 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 Camilla Ci ha rotto il cazzo Porca troia Perché non riesco A non dire Allora Dunque Ecco Non è malvagia Ora Bimbe I discorsi sono questi Io l'ho prese Perché avevo voglia Di prenderle Cioè comunque Il prezzo Era pochissimo E Avevo 6 euro Da spendere Però Figliole Fate questo Nessuna Dei fake Che vi farò vedere Sono abbastanza validi Quanto le vere palette E questo è chiaro Allora Vi faccio vedere Comunque Un po' i colori Questo è frosting E questo è déjà vu Che sono gli unici due Che sono glitterati E sono per l'appunto Gli unici due Che spaccano di brutto Perché come sapete E come vi ho detto Diverse volte Il Come vedete Fanno parecchia polvere Quindi sono abbastanza polverosi Comunque I prodotti Quelli glitterati Sono quelli Che comunque Va a finire Che meritano di più Nel senso Anche nelle palette Che trovate In giro per ebay Queste sono quelle Che vi scrivono di più E poi abbiamo Questo che sarebbe Un colore di transizione Che però Scrive veramente poco Ma Più che altro Lo usate Sì come colore di transizione Ma scrive poco Perché comunque è chiaro Poi c'è Charm Che è questo giallo qua Ve li faccio vedere così Vabbè dai Charm Poi abbiamo Il colore Dominatrix Che è il marrone Ora vi spiego Poi una cosa Di questi colori Marrone Androgeni Che è il viola Ok Poi abbiamo Fetish Che è Questo rosso Borgogna Un po' così Non mi figlio mai Così per pulirmi Poi abbiamo Militari Che è questo verde Così Ma poi ve li faccio vedere tutti Poison Che spacca E Suolas Chi è? E' Ugo Ciao Ghetto Allora Eccolo Ugo Ciao Ciao Allora I colori Allora I colori sono questi Come vedete Belli scriventi Nel senso Scrive la palette Però Come vi stavo dicendo Per il prezzo che hanno Va nel senso E' correlato al prezzo che hanno Però Scrivono Perché comunque Le abbiamo swatchati Con le dita Ok Quando prendete un pennello E andate a Mettere il colore La cosa è molto diversa Quindi Questi sono colori Che Li potete usare Come le palette Quelli di 360 Colori Magari sotto Mettete un X bianco O comunque una base E Il prodotto Non è male Comunque Vi darà il suo buon Il suo buon risultato Se avete da spendere Le vostre 6-9 euro Va bene Insomma Cioè Spedizione gratuita Varevano un mese Quindi Io devo dire Che È promossa Poi certo Naturalmente Non avrete Le sfumature Che ha una palette Di questa Portata e cilindrata Cilindrata E poi vi faccio vedere I tre fake I tre fake Dei lip Allora Io anche questi Mai provati Quelli veri Quindi io Purtroppo Mi dispiace Ma non posso darvi Un giudizio Reale Nel senso Un confronto reale Tra Allora Io ho preso Scorpio Perché era il colore Che veramente Da quando erano usciti Che volevo Comunque Vederli così Sono dei bei colori Cioè Riuscite comunque A gestirveli Abbastanza bene Ecco Non sono proprio Devo dire Che non sono male Ecco Allora Scorpio È da quando ho visto La palette Sì la palette È da quando ho visto I colori Che lo volevo Poi ho preso Weirdo Weirdoo E Blueponisk Allora Anche questi costano una fesseria 1,50 euro Questo è Blueponis Che è questo bel viola acceso Ve lo suogioso E ve lo metto qua Allora Questo è Blueponis Allora Anche questi Hanno una bella Colorazione Nel senso Per 1,50 euro Ora io Qualcuno aveva detto Che come il prodotto Questo è lo vero Un po' più alto Più secco Non lo so Quindi Questo è Questo viola acceso qui Che comunque Con una bella passata Riuscite anche a fare Un colore bello intenso Nel senso Non so Proprio C'ho fecafe Ecco Però Aspettate Poi abbiamo Scorpio Che è la fine del mondo Che sinceramente Quello vero Secondo me È ancora più bello Ed è Questo colorino Qua Proprio vi faccio vedere E poi abbiamo Weirdo Che io sinceramente Non avevo neanche visto Nei colori veri E devo dire Che è quello Che mi piace di più Questo colore È veramente figo Ed è Questa specie Di grigio Che avevo sulle labbra L'altro giorno Ed è Fed Ed è Fed Fedente Che è fenomenale Ed è Questo Credo sia Uno dei colori più belli Che ho Questo weirdo Però Allora I colori sono Questi Weirdo Scorpio E l'altro Spero li Vediate Amo Vado a prendere Poi Aspetta Lo vedo dopo Allora Devo dire che Per averli pagati 1,50 euro Sono dei prodottini Che secondo me Valgono Nel senso Ragazzi Costano 1,50 euro Ci può essere di tutto Dentro Quindi chi è Di quelle che Oh mio dio Per esempio Questo è un Dior Che può avere Magari la stessa Durata Di un Weirdo Da 1,50 euro Niente Magari Possono essere Per quei colori Che uno non ha Intenzione Di spenderci Tutta la fratta Di soldi Che costano Durano una miseria Chiaramente Però Neanche poi Così pochissimo Cioè nel senso Allora A differenza Delle fialette Che io adoro Come sapete Le mie vecchie Fialette Io le amo Però purtroppo Creano grumi Sulle labbra Ve le appiccicano Ve le seccano Alcuni Proprio Cioè Dopo un pochino Vi si screpolano Tutti sulle labbra Questi devo dire Che sulle labbra Vi rimangono intatti Non vi creano Troppi problemi Quindi devo dire Che a me Piacciono Comunque Sono sempre 1,50 euro Da mettere a confronto Con la qualità Del prodotto Quindi figliole Io le strapromuovo Naturalmente Sempre relativi A questo Cioè Al loro prezzo E a quello Che dovrebbero essere Fake Presi da Ebay Quindi Cinesate Però Mi rendo anche conto Allora Io mi rendo anche conto Che ultimamente Sto acquistando Tante cose Che magari però Potrei acquistarne una Magari Uno di questi A 20 euro Quanto è Invece Di aver preso Tutti gli altri fake Non lo so Sinceramente A parte col canale Magari mi faceva anche Piacere farvi vedere qualcosa Però Secondo me È anche una cosa Mia personale Cioè Io sono fatta così Devo abbondare E Boh Cioè Nel senso A me non dispiacciono Ecco Ora che Avrei voluto Anarchy Alla follia Perché Anarchy Di Nabla Credo che Avrei voluto Anche la differente Di Mulac La 2 Visto che la 1 Non ce l'ho Però Purtroppo Ho speso Abbastanza Questo mese Ora vediamo Quando mi entra Qualche soldo Nuovo Però comunque Le collezioni Di Natale Non mi sono piaciute Molto Nel senso Che Comunque Per esempio Anche di La Nabla L'unico Che mi piace Tantissimo È Anarchy Gli altri Sono colori Visti e rivisti O che comunque Io su di me Tendo a non usare Quindi preferisco Magari Anarchy Che mi fa impazzire Però qual è il problema Spendere 14 euro e 50 Più 5 di spedizione Vai a spendere 20 e rotti Io speravo Di trovare qualcuno Con cui fare L'acquisto insieme Praticamente Cioè pagare Amore Amo Mi fai il piacere Mi porti La cosa Che è di là Sopra Il nostro Scotex Però Anche differente Della Mulac Per quanto Mi piacciono Pure i colori Sono un po' Perplessa Però Devo dire Che me la regalerei Va bene Allora Grazie baby Grazie Grazie Li faccio vedere Di dupe Tanto Ho finito Perché mi è rimasto I fake Praticamente Quelli che compro Che sono finti Su ebay E Naturalmente Visto che anche loro Non hanno una palette Da spenderci 50 euro Per esempio Mi vorrei regalare Per Natale La palette Di Jeffree Star Quella Di illuminanti Grigi Però Costa E quindi Vediamo Allora Ancora Quanto si può fare Per Natale Che cosa Mi ho regalato Niente amore Mi sono regalato Per Natale No c'è qualcosa Che ti si trasferisce Amore Non mi sono regalato Niente Ma io si Vabbè L'ho già detto Che mi hai fatto il regalo E che lo sto testando Allora La Uda Non ve la faccio vedere Perché comunque Ve l'ho già fatta vedere Veniamo Alla Renaissance Modern Renaissance Vabbè Allora Questa sinceramente È stata la più deludente Allora È anche quella Che trovate di più E a meno prezzo Però io Non l'avevo visto Non l'avevo visto Perché comunque Lì lo vedi Diverso Allora La scatola fuori Esterna È questa Normalissima Vabbè Ce la può fare Cami Forza Vuoi comprare Una mano nuova Ok E questo è L'interno Della palette In vellutino E dietro E che spacciandoli Allora Questa è la palette Più differente Più differente Viola molto acceso Viola molto acceso Allora Vi faccio vedere Allora Il secondo È un viola acceso E in realtà È questo Ok Poi c'è questo In realtà Di questo Altro viola Altro coloro Corallino Quindi come colori Un arancio chiaro Questo è un chiarissimo Quasi sul bianco Un giallo E un rosato Ok Ve li mostro qua Vedete I rosati Neanche si vedono Poi abbiamo Questo Che è Naturalmente Il glitteroso Che come tutti Glitter che vi ho detto Comunque luminosi Shimmer Spacca Spacca Poi abbiamo Il primavera Che è un Doratino Vi faccio tutti I glitterosi E poi abbiamo Questo Che è un antique Bronze Che addirittura Non scrive Una minchia Nemmeno questo Allora Io questa L'ho testata Abbastanza poco Devo essere sincera Però era l'unica E quindi ho detto Fa un culo Faccio il video lo stesso Poi abbiamo Questo verdolino Che non so Quanto sia verifiero Dalla vera palette Vi faccio vedere Poi Questo marrone Che è Cyprus Ambre Che secondo me Non combacia E comunque Un colore bellissimo Cioè magari Da usare come transitorio Poi abbiamo Questo Che è Love Letter Che è quello Che ho usato di più Che è questo Rosetto qua Io avevo preso Queste palette Perché mi piace molto Questi colori Così Ok Cioè tipo questo Cioè mi piacciono molto Questi viola Prugna scuri Ed è un colore Che a me fa Impazzire In tutte queste palette Ci doveva essere Poi in realtà Si sono rivelate Quasi tutte Scarse Con quel colore lì Per esempio È questo qui Che ve lo faccio vedere Così Per esempio Il colore che fa Impazzire a me È tipo Questo qui Tipo fetish Mischiato Con androgeni Ok Un rosso Viola Mischiato insieme Allora comunque Allora comunque Alla Jeffrey Gli diamo Un bel 8 8 e mezzo Quasi 9 Alla Uda Beauty Gli diamo Un 6 e mezzo 7 Perché comunque Anche con i colori Non c'entra Granché E me ne devono arrivare Altri di fake Più che altro Di Lip Labbra Quindi vediamo Un attimo Se poi riesco A farvelo E poi abbiamo Questo Che è il Warm Top Ed è questo Violino Che si Buona Ma mi Verdolino Che non si vede Una minchia E poi Abbiamo Pici Che è Pelgar Anzi Che è questo Arancio E questo E poi Questo ve l'ho Già fatto vedere E poi abbiamo Il Pedocr Che è comunque Quello che ho usato Forse di più Ok Che sono identici Allora Questi sono i colori Della palette Come vedete Sono molto chiari E molto leggeri Come scrivenza È una palette Che comunque Vi costerà 3 dollari 3-4 dollari Non di più Però Oltre a scrivere poco Non hanno neanche La veridicità Del colore Allora Io ho sempre Preso fake Però Vi posso garantire Che Io ho Alche delle palette Da 360 colori Avevo la palette Di tutti i marroni Non so se ve la ricordate Magari vi lascio Qua sopra Nel pallino Un vecchissimo video Dove c'è quella palette Che avevo La primissima Invece poi L'ho ricomprata Che è una palette Che si trova Su ebay Che è favolosa Piena di marroni E sono dei marroni Fantastici Tutte le tonalità Fredde e calde E hanno una scrivenza Pazzesca Quindi mi viene da dirmi Cristora Mai che fai Un cavolo di fake Fallo per bene E almeno fallo Anche scrivente Anche perché Quando fanno I 360 180 colori Io ho Quel tipo di palette Vi posso garantire Che comunque Scrivono Quindi Che dire Che dire Che dire Vabbè Dire Peccato Ecco Comunque Sì Vi faccio vedere Il giallo Che non si vede Per niente Questo è Il giallo Ed è Questo E il problema Di questa palette È che la scrivenza È veramente bassa Io a questa Li darei Un 5 Scarsissimo Quindi se volete Una palette Non prendete questa Perché veramente Non ne vale la pena Cioè Sì Usate Avete Sti 4 euro Però Insomma Sono sempre 4 euro Un po' così Buttati sprecati Perché Io di questa Uso veramente Pochissimo Per farla Colorare Veramente Cioè Non è che Mi mancano Le mie vere palette Quella di Kat Von D Mi mancano Cioè Io ho Veramente delle palette Valide E purtroppo Qua non ce l'ho E Mi mancano Davvero A A Padella Perché Comunque A me mancano I miei trucchi Mi manca farli E comunque Riesco O comunque Che cazzo Ma perché mi impunto Con le parole Così tanto Comunque Allora Cioè le dico Tanta volte Riesco Sì a farmi Dei trucchi Ma I veri trucchi Che facevo Ora Non lo so Mi mancano E non riesco Forse a farli Perché ho queste palette Un po' Cirigneau Però quello di oggi Ve durò tutto il giorno All'inizio era già Molto diverso L'avevo fatto un po' Più sfumato Ci avevo messo la base Se non mi sbaglio Quella comunque Della Kiko E avevo fatto un bel Tono su tono Insomma Con una bella sfumatura Quindi Va buono Va buono Dai Non so più cosa dirvi Il mio amore Vi faccio vedere Cosa mi ha regalato L'altro giorno Allora Il kit labbra Questo mascara Che sto testando Questo qui Il volume million Della L'Oreal Allora Io questo qui Ce l'avevo Fatale Io questo ce l'avevo Perché l'ho preso Tempo fa Quando c'erano Quelle donnine disegnate Però non l'ho mai usato Questo me l'ha regalato lui All'altro giorno L'ho già usato Questo è il Lo scopolino in silicone Io bimbe Vi devo dire Che questo Mascara Mi sta veramente Stupendo E non mi sarei Mai 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 Aspettata Che Avesse Un volume Così Quindi Gli sto dicendo Dei tuoi regali E poi vi faccio vedere Mi ha regalato questa Allora io questa Non l'ho ancora aperta Ed è Un bronzer Della pupa Io ce l'ho uno Che però Non è questo Allora questo è un Maxi formato Da 35 Fottutissimi grammi Cioè Un bronzer Da 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 Ho sputato 845 Bambini Allora questo È lo 04 Intanto E Tipo Un Scialdone Così Che è Grande Quando La mia Faccia Da 35 Ho finito Dai Da 35 Grammi È una palettata Assurda Vi durerà Per tutta la vita Ed avrete un bronzer Che vi durerà Per tutta la vostra Esistenza L'interno è questo Il bronzer Comunque è questo Cioè È una scialda Disumana Io non l'ho neanche Swatch Ed è un bel colore Caldo Ha un odore Faboloso E deve essere Leggermente Glitterato Allora Vi faccio vedere Eccolo qua Questo è Il bronzer Allora io lo sto Utilizzando tantissimo Ultimamente Mi sto mettendo Quello della Purubio Qua Mi devo rimettere Il micro E l'altro giorno Ci volevamo fare Il micro Velo suo dietro E sono spariti Questi due Microderma Allora Mi metto Il Purubio Qua E poi Prendo il pennellone Quello figo Che amo Questo E prendo Questi bronzer Qui E Gli do Così Io solitamente Non lo facevo Scaldo l'incarnato Come dite tante di voi Io solitamente Non lo facevo Perché Scaldo l'incarnato Cioè Mi faccio L'ombra Però Solitamente Mi facevo Il rigone netto Ed era raro Che facessi Comunque la parte Poi Cioè Al posto del blush Io mi do questi Ecco Perché il blush Comunque Se non è quello Com'è avuto il periodo Che avevo la fissa Del blush Rosa Quello chiaro Adesso C'ho la fissa Dei marroni Quindi Va bene Dai Vi saluto Perché Comunque Non ho Altro Da dirvi Ho riguardato Il video Dei mascara Vi ho detto Soltanto Che sono tutti Buoni Allunganti Allunganti Volumizzanti E districanti Cioè Tutti i mascara Vi ho fatto vedere Sono tutti Allunganti Districanti E volumizzanti Di cercami Sei veramente La peggio Cioè Io mi fai da guardarmi Lo sapete solo voi Io vi mando Un grande bacio Fate brave Ve lo abbo Tantissimo Ciao Cide Ciao 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 Ciao